è un piacere ritrovarti amico mio è un piacere ritrovarti come va come va io bene bene a quanti anni si è arrivato l'ultima volta che ora quanti ne hai adesso fra qualche mese 80 signori 80 lo vedete col sole con la pioggia con la neve con tutte le temperature possibili il nostro amico ricordami come ti chiami giovanni giovanni che fa questa strada imperterito avanti e dietro avanti di oggi sei proprio nella misa il tennista e si si oggi hai voluto ma ricordaci il motivo per cui tu fai questa parte quello della salute della stare bene certo l'ho sempre fatto da piccolo da da studente sono stato campione studentesco di corsa campestre ho continuato sempre adesso lo faccio principali principalmente per un motivo voglio stare in pace con il signore e allora lungo tutta la corsa di uno o due ore quelle che fa cerco di pregare specialmente per gli altri per il mondo per la pace e la giustizia nel mondo per tutti i giustizia che spesso che spesso manca la vita da parecchio a chi ti rivolgi soprattutto a gesù alla madonna no gesù a gesù a gesù noi siamo cristiani perché crediamo in cristo nostro signore nostro dio e quindi tu questo percorso riesce a concentrarti e a pregare per le storture di questo maledetto mondo che io sono un ministro straordinario della comunione quindi a maggior ragione devo pregare il dovere di pregare specialmente per gli altri oltre anche per la mia famiglia i miei figli i miei nipoti che c'erano quattro hai quattro sì 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 orgogliosi di questo nonno dovete essere ma tu lo fai tutti i giorni no tutti i giorni no secondo le esigenze della della famiglia anzi dei nipoti perché io devo andare a prendere ogni giorno i nipoti ecco qua ecco io te l'ho fatta apposta la domanda provocatoria perché anche mio suoccio è legato i miei genitori sono legati ai nipoti abbiamo il dovere di aiuto specialmente in questo periodo di crisi di aiutare i figli e nipoti in particolare tu nonostante questo dovere lavoro piacere che tu hai ti trovi comunque lo spazio per fare l'allenamento preghiera allineamento preghiera sì 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 mi dispiace di averti interrotto no 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 ho appena iniziato infatti non vedevo molto sudore no 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 ho appena iniziato tu sei di l'oseto sei partito a lei certamente e dove te ne va dove arrivi io quando stavo bene diciamo prima del cove facevo l'oseto cellia e carbonara poi ritorno andavo ad adelfia a bitritto l'oseto e mi fermavo adesso faccio però un po di meno molto di meno adesso perché insomma bisogna te no non bisogna esagerare nel conto dell'età che avanza no non bisogna esagerare non devo vincere niente hai per noi hai già vinto per noi hai già vinto buon allenamento buon proseguimento e salutaci tutta la famiglia e se puoi prega anche per noi per quinto potere mi raccomando diciamolo tutti insieme iscrivetevi a quinto potere quinto potere che giovanni segue quotidianamente ok è vero grazie è vero lo sei sì sì lo seguo sempre lo seguo sempre con grande entusiasmo quindi iscrivetevi tutti a quinto potere grande giovanni arrivederci giovanni buon allenamento buon allenamento è vero grazie a tutti